Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Florence TV in studio Nicola Gian Natasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandici con possibili disagi alla circolazione. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra il lacciamento per la A1 e San Casciano. Sulla Statale 1 Aurelia scambio di carreggiata sempre per lavori tra Cecina e Rosignano. La viabilità cittadina a Firenze in via di Castelli nel tratto tra via della Querciola e via di Bellagio restringimenti di carreggiata. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!